Sii per me difeso, Dio. Rocco, che mi salva, perché Tu sei il mio baluardo e il mio rifugio. Guida-mi per l'amore del Tuo nome. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, ecco celebriamo i divini misteri. Perché la Santa Messa è la parte più importante della nostra riunione. Succede questo facilmente, che per la preghiera c'è tanta gente, per la comunione col corpo e sangue del Signore, ossia con la celebrazione della Santa Messa, la gente, anziché aumentare, diminuisce. E lo scarso senso nella vita di preghiera. La Santa Messa è la parte principale della riunione, non una parte accessoria o secondaria. Ecco perché, vi prego, dopo la preghiera, nessuno dovrebbe andarsene. Tutti dovremmo celebrare l'Eucaristia, perché la parola di Dio, che si fa carne, pensa dentro di noi e diventa poi parola vivente. Intanto chiediamo al Signore la luce, questa sera ci ha parlato di luce, chiediamo al Signore di camminare nella sua luce, camminare per la sua strada. se abbiamo errato, se siamo andati a destra e a sinistra, se abbiamo abbrancolato nelle tenebre, se siamo caduti, appunto perché abbiamo smarrito la strada, chiediamo al Signore aiuto, ritorniamo a Lui, e lasciamoci guidare da Lui. Signore, ti chiediamo perdono e pietà, ti chiediamo luce per camminare con Te. In quel tempo Gesù e i Suoi discepoli giunsero a Bethsaida, dove gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio, e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese, vedi qualcosa? Quegli alzando gli occhi disse, vedo uomini, infatti vedo come degli alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi, ed egli questa volta ci vide chiaramente, e fu sanato, e vedeva a distanza ogni cosa. E lo rimandò a casa dicendo, non entrare nemmeno più nel villaggio. Parola del Signore. Ecco, fratelli, ritorna nel Vangelo la vista degli occhi, la luce di cui il Signore ci ha parlato nella preghiera. Gesù tocca gli occhi del cieco, ed egli vede. l'aveva perduta la vista. Non era un uomo che era come il cieco nato, no. Aveva perduta la vista perché il termine usato poi nell'Evangelista ha recuperato la vista. Dunque l'aveva e l'aveva perduta. Dove l'aveva perduta? A Betsaida, nel villaggio. Nel villaggio degli uomini corrotti. Nel villaggio impuro di Betsaida. Qui aveva contratto la cecità. E mendicava. Allora lo condussero a Gesù perché perché egli lo toccasse. Ecco, Gesù soleva toccare le persone, talvolta si lasciava toccare perché il tocco nella mano trasmetteva la potenza di guarigione. Ero un uso di Gesù. Forse era anche in uso questo modo di guarire, però Gesù usò questo mezzo quasi per trasmettere la sua potenza di guarigione. Lo toccò e mise della sua saliva sugli occhi. Anche questo era un metodo curativo per gli antichi. E domanda ci vedi il tocco di Gesù e la saliva di Gesù operano una prima guarigione a metà e l'unica guarigione di Gesù a tratte a stadi non istantanea come tutte le altre guarigioni. era una guarigione tipica del carisma di guarigione. Le altre guarigioni appartengono a un altro carisma quella del miracolo. E lui dice sì vedo qualche cosa difatti vede così in lontananza come degli alberi che si muovono vedo uomini come alberi aveva riacquistato un po' quella vista. Gesù si accorge che la prima imposizione delle mani il tocco la saliva aveva cominciato ad operare e allora di nuovo gli impose le mani questa volta l'imposizione delle mani non il tocco la saliva ma gli impose le mani e domanda e adesso ci vedi quell'uomo disse adesso sì adesso vede chiaramente vede a distanza recupero la vista e allora Gesù gli dice sta attento non entrare più nel villaggio battene fuori battono lontano perché qui si perde la vista degli occhi cosa voleva significare Gesù che talvolta noi trattando con la realtà terrene perdiamo la vista degli occhi non ci vediamo più vediamo le cose della terra e le realtà spirituali non le vediamo più ma Gesù passa va a Gerico va a Bethsaida va nelle città degli uomini perché gli uomini vedano un popolo che era nelle tenebre vide una grande luce ecco Gesù che la luce illumina ogni uomo che viene in questo mondo qui l'operazione è a gradi può avvenire questo anche nei nostri gruppi è un modo tipico questa guarigione di come avvengono le guarigioni nei nostri gruppi sì qualche volta abbiamo una guarigione istantanea ma il più delle volte abbiamo la guarigione a gradi la persona malata ha bisogno di diverse preghiere perché la potenza del Signore con la collaborazione della persona opera gradatamente è un modo di operare di Gesù lasciamoci guarire da Gesù forse noi non vediamo abbastanza noi crediamo di vedere ma non vediamo c'è un bel testo di Isaia che dice chi è cieco se non il mio servo noi siamo servi del Signore crediamo di avere la vista anche i farisei credevano di avere la vista e Gesù diceva voi non vedete voi siete ciechi in umiltà dobbiamo riconoscere che non abbiamo una vista chiara non abbiamo gli occhi sani e allora chiediamo al Signore questa sera il risanamento dalla vista spirituale chiediamo con esistenza al Signore che i nostri occhi si purificano con la saliva che viene da Lui la sapienza che viene dalla sua bocca ascoltando la sua parola noi diventiamo siamo sempre più puri voi siete puri per la parola che avete ascoltato e quella parola del Signore quando viene ricevuta il bacio del Signore la saliva dalla sua bocca la sapienza che esce dalle sue labbra guarisce la nostra cecità noi cominciamo a vedere con la luce di Dio a giudicare col giudizio di Cristo ed è allora che i nostri occhi si illuminano e cominciamo a vedere il vero valore delle cose cominciamo a vedere la strada per cui camminiamo in modo da non incempare più questa sera Gesù è qui in mezzo a noi egli vuole ungere con la sua parola con la saliva dalla sua bocca i nostri occhi lasciamoci ungere dal Signore perché dobbiamo vedere dobbiamo contemplare il suo volto pensate quale gioia non ebbe quell'uomo che prima non vedeva quando vide il volto di Gesù di colui che gli aveva ridonata la vista così anche noi rivedremo il volto del Signore e potremo a camminare nella sua via Amen il Signore Gesù è il principio della vita nuova e gli apri i nostri occhi nel battesimo perché noi possiamo vedere purtroppo i nostri occhi si sono oscurati lungo il cammino meglio è colui che apri gli occhi degli uomini e la luce del mondo con questo Spirito rivolgiamoci a Lui e chiediamo la luce degli occhi chiediamo a Lui che venga dentro di noi il suo regno venga il suo regno Signore